Grazie a tutti Ciao mister Andavo dentro di Aldo Questo è il campo da battaglia E' arrivata la sola E' arrivata la garcia E' arrivata la garcia E' arrivata la garcia E' arrivata la garcia Piscina per i minuti Questa non l'avevo mai sentita ma loro giocano è vero bravo mettila bene un uco schienata che è qua? si chiama Mario il campo così piccolo vedi loro ci provano hanno saltato dietro il tiro non sbagliato, però devi tirare ecco bravo oh ma cazzo no 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 rigore rigore però secondo me era fuori Aldo Turto ciao vai 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 AL-QB! Grazie a tutti 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 Dimmi Signori, chiamate degli altri! Più forte, Gabri! Grazie a tutti! Grazie a tutti!